Nell'anno in cui il coronavirus è entrato a far parte della nostra vita, la pandemia tra i disastri ha compiuto anche una grande piccola rivoluzione. Il libro è stato riconosciuto come un bene primario. Fin da subito le librerie sono state catalogate come attività fondamentali al pari di farmacie ed alimentari e sono sempre rimaste aperte anche durante la zona rossa. Il valore della lettura è stato riscoperto e anche le vendite nel 2020 sono andate bene, come ammettono gli stessi operatori del settore. Il sabato è veramente una giornata diversa, una volta invece sarà un po' tutto quanto livellato, però si lavora bene. Poi per i bambini è veramente leggere un passatempo. C'è molta gente che viene a comprarsi il libro sabato, venerdì e sabato perché domenica sta a casa. Lo dice proprio, quindi compriamo due o tre libri perché tanto domani siamo a casa e leggiamo tutti insieme. Ha rivalutato l'importanza della lettura? Assolutamente, sicuramente la lettura ma anche con la DAD perché anche gli insegnanti soprattutto ai primi tempi hanno visto che leggere era proprio una risorsa, leggere a voce alta. Quindi tantissimi hanno preso i libri, sono messi davanti al loro telecamera e al computer a casa e hanno letto a voce alta. Insomma il mercato del libro ha tenuto sebbene i commercianti si siano dovuti reinventare anche con le consegne a domicilio. Abbiamo fatto tante consegne a domicilio però devo dire che sono state più le persone che sono venute in libreria rispetto a quelle che hanno preferito l'opzione della consegna a domicilio. Le persone hanno sentito la voglia proprio di riprendere forse anche a leggere, di scoprire un altro modo per vincere questa pandemia anche attraverso il libro. Libri concepiti non solo come svago ma anche come strumento di formazione per la propria crescita personale. Quali generi di libri sono andati per la maggiore? La narrativa fa sempre la parte del leone nelle vendite. Però c'è stata una forte crescita di libri formativi, di crescita personale, self-help, anche di aiuto di self-help psicologico. Per cui quello è un settore in forte crescita probabilmente è dovuto anche alle condizioni in cui molti si sono trovati a dover vivere. Per cui insomma il libro può essere non solo uno svago ma anche un aiuto per una formazione personale, una crescita, un aiuto psicologico.